Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi analizzeremo una partita francese con una delle linee spiegate nella lezione per abbonati di questo mese. In realtà la seconda lezione del mese perché nella prima siamo andati avanti con i finali di pedoni. Quindi un ringraziamento speciale a tutti gli abbonati che diventano sempre più numerosi. Ed anche voi ricordatevi se volete imparare la francese ma soprattutto migliorare in generale a scacchi vi potete abbonare per un costo irrisorio 2,99€ al mese per accedere a tutte le video lezioni anche quelli dei mesi scorsi. Ma focalizziamoci su questa partita. Il candidato maestro Juan contro un altro candidato Arsenault. Partita giocata nel 2007. Iniziamo subito con la partita e la teoria delle prime mosse. Allora il bianco apre con E4, il nero risponde con E6. Questa è la mossa che caratterizza la difesa francese. Cosa vuole fare il nero? Il nero vuole subito chiudere questa pericolosa diagonale chiara che porterebbe o che porta in tante partite come la partita italiana questo alfiere subito a minacciare questa casa F7 accanto al re protetta soltanto dal re. Se questo dà solidità, se questa E6 dà solidità sicuramente alla posizione del nero fa anche una concessione al bianco. Gli permette di avere un maggior controllo del centro. Gli permette infatti di giocare subito la spinta di E4. Ma il nero ha pensato bene a questo problema ed intende risolverlo attaccando subito e cercando di smantellare il centro con la spinta dei suoi pedoni. Per prima cosa arriva D5 che quindi attacca il pedone in E4. Ora noi sappiamo che il bianco può attaccare la francese in diversi modi. Noi stiamo analizzando la variante di spinta quindi dove il bianco giocherà alla terza mossa E5. C5 continua l'attacco al centro. Ora ricordiamoci però che F6 che sarà la prossima spinta dei pedoni ma va giocata al momento giusto. Di sicuro non quando il re bianco è ancora al centro perché questa spinta E6 apre questa bruttissima diagonale chiara che porta proprio l'attacco sul re nero. Quindi C5 attacca il pedone centrale. Unica mossa buona per il bianco totalmente corretta è C3. Cavallo in C6 sviluppa e nuova pressione sulla casa D4. Cavallo in F3 sviluppa e protegge. Questo è un momento importante da un punto di vista teorico perché ci sono due continuazioni principali a disposizione del nero. Sono donna in B6, nuova pressione sul centro e la linea che giochiamo noi che si chiama variante OV. Alfieri in D7 è la mossa della variante OV. È una mossa molto flessibile. Ma cosa intendiamo noi per flessibilità in questa posizione? L'altra linea principale abbiamo detto è donna in B6, ma mentre questo alfiere campo chiaro viene sempre sviluppato nella casa D7, vedete che la donna già controlla case importanti su entrambi i lati della scacchiera. In futuro potrebbe anche non servire svilupparla in B6. Quindi alfiere in D7, noi stiamo analizzando la linea principale che è alfiere in E2. Cavallo in G che va in E7. Non vi preoccupate assolutamente che questo cavallo sta chiudendo l'azione difensiva dell'alfiere, perché se per caso il bianco dovesse catturare va subito in svantaggio, perché il cavallo saltando in G6 attacca per la seconda volta il pedone e l'altro sicuramente cadrà, con vantaggio del nero. Quindi arrocco corto per il bianco, il cavallo in G6. Un'altra continuazione interessantissima, chiamata sviluppo classico, è il salto del cavallo in F5, che vedete è un nuovo attacco sulla casa D4. Noi preferiamo però seguire le teorie del grandissimo Agard e quindi sviluppare in modo moderno il cavallo in G6. Quindi mentre con cavallo in F5 il bersaglio diventa D4, invece in futuro con cavallo in G6 il bersaglio sarà proprio la testa di questa catena pedonale. Ora, la continuazione principale del bianco è G3, per poi spingere in H4, attaccare subito il cavallo in G6. Oggetto di questa lezione invece è Alfiere in E3. Alfiere in E3 è la seconda continuazione più giocata e questa è la mossa di Sveshniko. Sveshniko è un famosissimo grande maestro russo che ha fatto la sua fortuna giocando la variante di spinta contro la francese e l'Alapin contro la siciliana. Questa Alfiere in E3 non soltanto è una nuova protezione ma vedete è un secondo attacco su C5. Il nero continua con Alfiere in E7 e adesso il bianco ha due continuazioni principali. Visto che il cavallo non può essere sviluppato sulla sua casa migliore che è C3, il bianco giocherà il cavallo in D2 oppure il bianco catturerà in C5. Oggetto di questa partita, perché noi nella lezione per abbonate abbiamo spiegato anche con tante altre partite di esempio queste due linee, in questa partita il bianco continua con cavallo in B che va in D2. Ora, visto che almeno per il momento il cavallo non può più saltare in C3, è arrivato il momento giusto per allentare la tensione al centro, quindi C per D4, il pedone ricattura, arrocco corto anche per il nero. Cavallo in B3, con la brutta idea per il nero di saltare in C5, noi sappiamo che dobbiamo giocare B6. Torre in C1, di solito nelle nostre francesi il piano principale è la spinta in F6, in questa variante vedremo un piano alternativo, perché Arsenal gioca A5, l'idea è quella di scacciare il cavallo continuando a giocare A4, quindi il bianco rimuove il cavallo per evitare la spinta col tempo, ma A4 viene giocato ugualmente. Cosa fa di buono? Oltre a prendere spazio sul lato di donna, libera questa bella casa A5 per il classico salto del cavallo, la classica manovra del cavallo francese che vuole portarsi su questo avamposto in C4. Allora, il cavallo si porta in B1, donna in B8. Cavallo in A5 rimaneva la scelta migliore. Ritorniamo indietro della mossa. Dopo il cavallo in A5, se il bianco vuole evitare questo salto del cavallo, e ricordiamoci come mai è così importante il salto del cavallo, è così importante perché quando il cavallo verrà protetto, non si può cambiare, oppure è possibile che gli esca fuori il 3, no, anzi, senza è possibile, sicuramente uscirà fuori il 3 contro 2, e addirittura il bianco deve stare attento che addirittura il pedone potrebbe passare. Quindi qui ci sono due continuazioni logiche, sono B3 ad evitare e a controllare questa casa C4, ma arriva donna in E8, e quindi qui si può tranquillamente pensare di continuare a spingere. alfiere in D3, A per B3, il pedone A ricattura, alfiere in B5, guardate un po', strategicamente, il nero ha sicuramente ottenuto un risultato ottimo, perché riuscirà a togliere l'alfiere campo chiaro, l'alfiere buono al bianco, perché guardate, i due pedoni centrali del bianco sono su case scure, quindi al bianco gli rimane l'alfiere cattivo, e il nero è riuscito a togliersi lui il suo alfiere cattivo, quindi sicuramente un primo vantaggio strategico. Ritorniamo a cavallo in A5, perché il bianco può anche decidere di giocare H3, cavallo in C4, è sempre buona, qui, attenzione, non si può catturare, alfiere cattura, il pedone ricattura, se la torre cattura, guardate un po', alfiere in B5, vince la qualità, quindi è per questo che questa manovra, cavallo in A5, è una manovra molto molto forte. Ritorniamo a noi, invece Arsenault gioca donna in B8, quindi lui vuole spingere il pedone, supportato dalla donna in B8, il bianco porta finalmente il cavallo sulla sua casa migliore. Attacca il pedone, ma il pedone avanza, di nuovo il cavallo in A5 è più forte, B3, preso spazio, adesso che il nero ha preso spazio, in pratica ha bloccato il lato di donna, Arsenault ritorna a giocare questa spinta F6, piano principale del nero in queste posizioni. Arriva F6, vedete tre attacchi contro due difese, naturalmente qui l'alfiere non può difendere, perché il cavallo sta proteggendo F4, quindi il bianco è praticamente costretto a cambiare, e per F6 l'alfiere ricattura. Arriva l'alfiere in B3, vedete il bianco è riuscito a portare l'alfiere sulla sua casa più offensiva, quindi donna in E8 a proteggere, e il cavallo in B4 sono entrambe mosse interessanti, arriva invece il cavallo in E7. Cavallo in G5, H6, cavallo sotto attacco, ma il bianco fa a sua volta la sua minaccia, quindi attacca il cavallo con alfiere e donna, ma non è una grande idea, il pedone cattura, l'alfiere ricattura, cavallo cattura, donna ricattura. Ora fermiamoci un attimo, perché guardate che cosa è successo, è successo che il nero è rimasto con la coppia degli alfieri, alfieri in E8, sorretto dalla donna, dalla torre e da tutti i pezzi pesanti, attacca la donna del bianco, la donna si porta in D3, arriva B5. Cavallo in E2, arriva anche B4, torre in C2. Donna in B5, cosa vuol fare il nero? Il nero con la coppia degli alfieri cerca il cambio donna, il bianco non vuole assolutamente cambiare le donne, porta indietro questa donna in D2, ma arriva alfiere in G6, guardate come prendano vita questi alfieri adesso, che quindi viene sviluppato con tempo, perché attacca la torre, il nero sta già meglio, torre in C5, attacca la donna, la donna supportata dall'alfiere, invade e cerca di nuovo il cambio donne. Donna in E1, torre in B8, il cavallo in C1 attacca la donna, la donna si porta in F5. Cavallo in E2, di nuovo, invasione di donna, donna in D3. La torre ritorna indietro in C1, e il nero cerca lui di controllare questa colonna C. Torre in F che va in C8, torre per torre con scacco. Brutto questo cambio del bianco, perché lascia proprio la colonna C al nero, la torre ricattura, e guardate quante minacce, ma più che altro c'è un controllo enorme adesso della colonna C. di nuovo il cavallo in C1 che attacca la donna, donna in C3. Di nuovo si cerca il cambio donne. Ora il cambio donne sarebbe disastroso, perché addirittura al nero gli passa il pedone, supportato da dietro dalla torre, quindi alfiere in D2 attacca la donna, e di scoperta c'è la donna del bianco che attacca il pedone in E6, quindi la donna nera torna in C6 a proteggere il pedone, alfiere per pedone. Anche il nero cattura il suo pedone, ma guardate un po' che differenza. Questi sono due pedoni passati, ben supportati e connessi. Ora anche il bianco si farà i suoi pedoni, ma non sarà facile attivare i pedoni di donna. Alfiere cattura in A3, addirittura il bianco ha due pedoni di vantaggio, ma sta perdendo la partita. In questa posizione ora qui bisogna mettere in moto queste catene pedonali, lo fa subito Arsenault giocando E5, ritorniamo indietro di una mossa, perché è più preciso e portare indietro, prima l'alfiere dietro i suoi pedoni, e poi spingere l'altro pedone in D4, guardate ha già attraversato la metà campo, ma comunque E5, già situazione pericolosissima per il bianco, arriva H3. Donna in F6, alfiere in B4, perché anche il bianco vuole spostare l'alfiere di fronte ai suoi pedoni, ma arriva la torre in seconda traversa. Torre in C2, alfiere in D2, alfiere in B2. Cavallo due volte sotto attacco, ma comunque due volte protetto, Donna D1 attacca la torre, arriva alfiere in D4. La torre comunque non si riesce a spostare, perché c'è l'alfiere che la protegge, il bianco mette in moto anche lui i suoi pedoni passati. A4, alfiere in A7, B4, ma quelli del nero centrali sono più veloci, D4, B5, torre in B2, perché la torre si mette dietro il pedone più avanzato dei due, perché non può avanzare, o la torre lo catturerà, non può neanche avanzare l'altro, perché perdendo la protezione, la torre catturerà in B5. Allora, Donna in E2, attenzione adesso, questo è un momento importante, mossa 44, probabilmente avevano pochissimo tempo sull'orologio, bisogna fare attenzione, bisogna mettere assolutamente la donna su casa bianca, perché la torre è rimasta sotto attacco di scoperta del nero, errore di Arzenoth, che gioca E4, e quindi qui il bianco, alla mossa, per riportare la partita in equilibrio, questa mossa è alfiere cattura in G5, che attacca la donna, torre per donna, l'alfiere cattura, però qui gli è rimasta la torre sotto attacco, torre in B2, alfiere in E5, con totale equilibrio, anche se comunque è un finale difficoltoso da giocare, ritorniamo a noi, e invece Yuan, non la vede, gioca donna in D1, allora donna in E7, re in H1, alfiere in B8, alfiere in B8 vuole chiudere più case possibili al re bianco, re in G1, donna in D6, qui si minaccia matto, quindi il bianco giocherà a G3, fermiamoci un attimo, perché queste sono idee che ci dobbiamo ricordare, fortissima, adesso è la spinta di pedone E3, perché non si può catturare, ma Arsnot non la troverà, guardate che succede dopo E3, qui se si cattura di alfiere, si perde un pezzo, perché la donna è sospesa, se si cattura di pedone, peggio che meglio, perché arriva donna cattura in G3 con scacco, la partita può finire qui, ritorniamo indietro, quindi con la cattura di alfiere, il pedone ricattura, donna per donna, l'alfiere ricattura, il pedone F cattura, e però qui c'è alfiere cattura in G3, ma qui al nero gli è rimasto un pezzo di vantaggio, anche se con pochi pedoni, torre in F3, alfiere in H2 con scacco, re in F1, arriva anche l'altro alfiere con tempo, la torre si deve spostare, torre per torre, il re cattura, e qui guardate un po', l'alfiere torna indietro, controlla tranquillamente i due pedoni avanzati del bianco, e poi in pratica il nero con un pezzo in più, metterà in gioco il suo re, vincerà semplicemente il finale, quindi ritorniamo a noi, quindi E3 mossa fortissima, invece Arsenal giocherà donna in F6, donna in E2 stesso giochino, alfiere in A7, donna in D1, quindi non la trova proprio Wan, donna in F5, minaccia la cattura, allora donna in E1, qui catturare è sicuramente buono, ma il nero continua con le sue manovre, donna in C5, comunque ormai che non c'è più questo attacco, ormai che non c'è più questo pezzo in presa, fortissimo è vantaggio del nero, il re si porta in H1, donna in D5, qui si minaccia di vincere un pezzo, semplicemente giocando E3, e quindi scacco di scoperta, che vince l'alfiere, allora il re si sposta in H2, casa dalla quale proteggerà anche H3, ma finalmente arriva E3, ora non si può catturare di nuovo, perché guardate che succede, se si cattura il pedone ricattura, il pedone ricattura, qui si può anche catturare di donna, ma qui gli è rimasto un pezzo due volte sotto attacco, il pezzo non si può muovere perché è inchiodato, e quindi si vince la partita, quindi E3 finalmente arriva, una mossa fortissima, l'alfiere si porta in A5, donna in F3, si gioca su quest'altra inchiodatura, allora arriva B6, si cerca di attaccare l'alfiere, ma l'alfiere si porta indietro in B8, e qui pensate, è matto forzato, e quindi il bianco abbandona, ma guardiamolo insieme questo matto, mossa migliore è cavallo in C2, perché il pedone era sotto attacco, perché l'altro è inchiodato, adesso il pedone non è neanche più inchiodato, però c'è un'altra casa di matto, alfiere in E4, torre in G1, per proteggere il matto, ma qui si perde la protezione del cavallo, torre cattura, attacca la donna, donna in F1, qui arriva la semplificazione finale, torre con scacco, la donna ricattura, donna cattura con scacco, unica mossa a interporre la torre, ma poi con l'aiuto dell'alfiere, la donna cattura in G2, e quindi è scacco matto, quindi vedete quante idee escano fuori da queste partite, perché non basta studiare la teoria, men che meno studiarla a memoria delle aperture, se poi quando finiscano le mosse che noi conosciamo, non ci ricordiamo, non abbiamo mai visto come giocare il medio gioco, e noi sulla francese abbiamo analizzato decine di partite, quindi abbonatevi al canale, sia per imparare, che per farlo crescere in tranquillità, otto e tutto imparerete una difesa francese fortissima, e poi sempre nuove strategie per migliorare i vostri scatti, spero che questa partita, che questo video anteprima vi sia piaciuta, se vi è piaciuta, non scordate il like, non scordate di iscrivervi, non scordate di abbonarvi, l'ho già detto anche troppe volte, e noi naturalmente ci vediamo domani con il video per tutti sul canale, a presto!